La città di Ostuni si prepara ad ospitare l'evento Il Socialismo Italiano 120 anni ben portati. Il 5 settembre la Città Bianca sarà il centro culturale dell'area socialistica che ha scelto di celebrare il 120esimo anniversario della fondazione d'istituzione con una serie di eventi, incontri e approfondimenti sulla cultura e la storia socialista in Puglia, una delle prime regioni dove i giornali socialisti hanno fatto la propria comparsa nel lontano 1883. Quando qualche amico ha letto 120 anni di socialismo e sorta spontanea la battuta ha detto non sono troppi, non bastano. Questo incontro, questo evento, questo convegno serve proprio a mio avviso per dimostrare che servono quantomeno altrettanti anni di socialismo per poter dare un contributo forte, significativo per interpretare i mutamenti, il rinnovamento che serve la società. Di solito la politica insegue sempre i mutamenti della società reale arrivando in ritardo. Io devo dire, per quello che ho constatato nel corso della mia lunga esperienza, ecco che i movimenti socialisti hanno avuto sempre questa grande capacità di anticipare i tempi e di interpretare le esigenze di cambiamento in grande anticipo e ne abbiamo esempi sempre quotidianamente. E allora ritengo che ancora oggi ci sia bisogno di questa capacità, di questa cultura di governo, di questa grande sensibilità all'innovazione e a seguire principi di uguaglianza, di giustizia, di attenzione ai diritti sociali, al lavoro, alla laicità dello Stato che i socialisti hanno sempre mostrato. E quindi quale migliore occasione di questo incontro? La città di Ustuni è naturalmente onorata. Io sono orgoglioso di ospitare tanti compagni e tanti amici che discuteranno non di aria fritta ma penso di esperienze vissute e di prospettive per il futuro. Noi abbiamo scelto i relatori più che nella platea dei politici militanti. L'abbiamo scelto fra gli studiosi della politica, gli intellettuali della politica, coloro che sono come me alla guida di fondazioni, che si occupano di politica soprattutto dal versante culturale. Voglio dire, Emanuele Macaluso non ha bisogno di presentazioni, Aldo Schiavone, uno dei più grandi intellettuali, pure con la sua assoluta libertà, ma un grande intellettuale della sinistra contemporanea. E poi la Pia Locatelli, anche Nencini, dovevamo necessariamente dare il riconoscimento al segretario di un partito che, nonostante le grandi difficoltà, comunque riesce a tenere ancora alta la bandiera del socialismo italiano, addirittura con il merito di aver riportato la denominazione a quella storica del Partito Socialista italiano.